Siamo con mister Cittarelli del Furio, mister sconfitto in casa da zero contro il Casoria, un Furio che tiene, costrisce anche qualche palla goal, però poi viene fregato all'ultimo. Ma viene fregato, abbiamo fatto una buona gara, i ragazzi hanno lottato, a tratti hanno anche giocato, ma non lo so, il rigore, questo pure è il secondo che prendiamo nell'area di rigore, pure l'anno scorso, è un rigore secondo me ne esistente, però poi dopo i ragazzi abbiamo anche, pure prima del rigore, potevamo segnare con Marco che ha preso il palo davanti alla porta. Abbiamo tenuto bene il campo, però questa è una squadra buona, siamo stati sfortunati e poi dopo questa espulsione dell'albitro che mi ha fatto l'espulsione di Davide Trofa che non c'era proprio. Espulsione di Trofa, espulsione pure di Fiorentino, Trofa sì, su un fallo che probabilmente non c'era, però Fiorentino poteva evitarlo, mister? Sì, doveva evitare, mi hanno detto che ha detto qualche parola all'albitro, questo non deve succedere, però questa è l'esperienza, bisogna essere esperti, uno perdeva uno e zero, si può sempre recuperare la partita, ci siamo buttati tutti quanti avanti, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto qua. Si parte con Savio e Trofa dietro, Savio difensore centrale e Trofa terzino, più esperienza dietro e i risultati possiamo dire si sono visti? Sì, li abbiamo mantenuti bene, soltanto dobbiamo avere più patronanza nel gioco quando abbiamo la palla, dobbiamo giocare meglio. Bisogna lottare, lo sapevamo dall'inizio che bisogna lottare, bisogna sacrificarsi, cercare di migliorare sempre, come ho detto sempre. La partita, i ragazzi sotto l'aspetto dell'impegno si sono impegnati, però dobbiamo migliorare nel gioco.